Amici questi sono i fichi di Bari in Olanda. Ora le prendo uno, quello bello maturo, lo apro, si vede così, è bello dolce, guarda com'è bello. Dolce dolce, buono, quasi quasi mi mangio anche la pelle, tra poco questi, mmm, ottimi. Guarda, 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 guarda che fichi, guarda, guarda come stanno, se non è che lo devo potare un po' di nuovo qua. Questi saporiti, altro che quelli di Bari. Questi stanno maturando, due o tre giorni che è mangiata. Ciao amici, guarda, 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 una volta, guarda, 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 guarda. Quest'anno è andato di meno perché l'ho potato l'anno scorso e gli uccialli iniziano a già mangiarse. Buone, buone, questo è uno, poi ci sono altri due alberi.